Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 8 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Alla scoperta della concordia? Con tutti i problemini e i problemoni che coinvolgono gli altri, quello che vi tocca sul vivo sono le finanze, agitate da una luna capricciosa, che rende tutto fluttuante. La confusione regna in casa e nel cuore, infatti confondete amicizia e amore, mettendo il pepe anche dove non ci va. Per fortuna vostra una situazione imbarazzante rientra automaticamente nei ranghi, sdrammatizzate con una battuta e ci mettete una pietra sopra. Batti becchi nell'aria per le coppie già datate, il partner non sopporta i vostri amici, che giudica superficiali e fracassoni. Voi di riflesso criticate i suoi, rendendo impossibile la creazione di un unico giro. Sicuri? E allora il vostro astro guida Giove, sempre Superpartes, cosa ci sta a fare? Ecco che infatti vi lancia la dritta giusta, cambiando ambiente tutte le antipatie si elidono, provate a unire i vari contendenti con una bella gita, partenza domattina, destinazione un bel borgo marinaro dove si mangia anche molto bene. Scoprirete il sapore della concordia. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze male riposte. Vi preoccupate troppo per persone che non lo meritano. Pensate di più a voi stessi. Gente egoista potrebbe crearvi dei disagi. Cercate di tenerli a distanza. Siete sollecitate a prendere alcune decisioni tra le quali ci sono quelle che potrebbero cambiare il vostro futuro. Esaminate bene ogni cosa e non fatevi condizionare da pressioni esterne. Giove in buon aspetto vi regalerà qualche successo e tanta serenità, solo in serata si prospetta un piccolo inconveniente che risolverete però brillantemente. Oggi non spazientitevi ma cercate di operare con pazienza in tutto ciò che farete. Ci è una cosa che vorreste fare da tempo e non avete mai fatto, è il momento d'iniziare. Datevi da fare su tutti i fronti, oggi non è giorno per riposarsi. Cercate di costruire di più e nel modo migliore. Se siete single cementate le amicizie che vi potranno tornare utili in futuro. Tagliate ogni ponte e recidete ogni legame con il passato, siate pronti a cogliere ogni attimo del presente per costruire, finalmente, un futuro scevro da condizionamenti passati. Mostrati deciso. Vestiti in modo elegante e ti sentirai più sicuro. Nel lavoro ti darai da fare con forza e grinta. Riposi di più. Cercate mille ragioni per restare legati a un passato che non vi ha offerto molte possibilità di vivere un futuro migliore. Recidete ogni legame con il passato, il futuro sarà vostro nella misura in cui saprete allontanarvi dal passato. I nati di vernerdi tra le 11 e le 13 potrebbero ritrovarsi a fare i conti con il passato e il riemergere delle loro storie. Ricordate che basta un attimo a ritrovarsi nel passato. Sole e Mercurio transitano nel segno della bilancia, con cui condividete ottimi rapporti e creano uno stato d'animo aperto e socievole. A questi pianeti si accompagna anche Venere in splendido aspetto dal segno del leone, che propone riflessioni sul cammino di vita intrapreso nei nati della terza decade. Ne conseguiranno, in famiglia, scelte mature ed il lungo respiro, destinate ad ottenere conferme e approvazioni. Iniziate la giornata con vivacità, brio e allegria, come si confà alla vostra natura più genuina. Marte facilita la voglia di intraprendere attività artistico-ricreative. Domenica Stonato, unico astro davvero favorevole Marte in se stile, che tuttavia vi espone a rivalità tra amici e a qualche discussione di troppo. Stesso discorso per la famiglia, sotto tiro di Nettuno nevoloso, di far faccende a casa non ne l'avete voglia e tanto meno di assumervi impegni di lavoro o effettuare riparazioni nei confronti delle quali non vi sentite abbastanza esperti. Un conto sono i piccoli lavoretti manuali, un altro mettere mano all'impianto elettrico o al computer. Tanto più che oggi la mente non è veloce e reattiva come sempre, la luna sonnolenta vi trattiene impigliati nel sogno, con lo sguardo appannato, pronto allo sbadiglio, salvo poi esplodere in battute feroci e in giudizi sferzanti quando qualcosa vi punge sul vivo. Amore ed Eros. Vita spericolata sul fronte del cuore, felici i single, padroni di se stessi e del ruolo preferito, Don Giovanni e Cleopatra per i più calienti, Peter Pan i vendi per chi ha paura del guinzaglio. Attenti però che a rubarvi la scena non intervenga un rivale. Anche i figli vi danno filo da torcere, tra capricci e pretese arrivano gli scapaccioni. Un minimo di prudenza nelle spese per amore non guasta, poiché siete tanto prodighi con chi vi vuole bene, Nettuno, pianeta della liquidità in angolo contrario, specie se siete nati nella terza decade, potrebbe svuotarvi oggi il portafoglio. La vostra espansività affettiva è molto stimolata da Marte, Venere, Mercurio tutti in splendido aspetto per il Sagittario e conducono, nella maggioranza dei casi, a fare la felicità della persona amata. Lavoro e denaro Pacchettino ben confezionato per un onomastico o un anniversario importante, più che altro contiene amore e questo è sempre il regalo più gradito. Prudenza comunque con gli acquisti, i conti non tornano. Il cielo oggi promette la vostra affermazione se lavorerete con tutta la costanza, la serietà, il rigore che vi saranno richiesti e in special modo se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Un impegno di grossa portata si delinea nell'ambito dell'attività professionale. Benessere. Ottima forma, migliorabile facendo un po' di moto, meglio in piscina. E che ne dite di un massaggio rilassante eseguito da mani esperte. Chiedete e vi sarà dato, sta scritto nel Vangelo. Per lei, per superare una piccola defaillance finanziaria confidate in un prestito ma non in una vincita, anche se la bisnonna viene a trovarvi in sogno non è detto che porti i numeri vincenti. Per lui, un guasto tecnico o blackout, se un elettrodomestico si è fuso non tentate riparazioni di fortuna, concedetevi un anticipo sul vostro regalo di compleanno, in fondo mantiano poco più di due mesi. Colore delle emozioni, blucina. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.